Provvedimento d'urgenza GU5 per sospensione della linea. Se ti hanno sospeso o interrotto la linea, dopo aver presentato l'istanza di conciliazione, puoi procedere a richiedere un provvedimento di riattivazione o GU5. Entra nella piattaforma ConciliaWeb. Vai sul menu a sinistra, clicca su Conciliazioni e definizioni indicati dalla freccia. A destra compare l'istanza che hai presentato. Al fondo dell'istanza ci sono tre puntini. Clicca sui tre puntini. Compare GU5 chiedi provvedimento temporaneo. A questo punto si apre un web form dove quasi tutto è precompilato. Se sei un privato, trovi già il flag su Privato. Inserisci nel campo Informazioni aggiuntive immediata riattivazione della linea. Controlla che tutti i campi siano compilati. Se l'istanza è presentata come azienda, devi mettere flag in Sono illegale rappresentante. Se l'istanza la presenti come privato, non comparirà questa voce. Clicca su Salva e invia. Ti uscirà questa schermata. Riporta il codice OTP arrivato sul cellulare e poi clicca su Firma e si è creata l'istanza di conciliazione.